Ben ritrovati con l'informazione di Telecità, partiamo da Padova dove un marocchino che sabato aveva terrorizzato via Altinate, quindi siamo nel pieno centro di Padova, con una brutale aggressione ai danni di un anziano, è tornato subito in libertà. Andiamo a sentire i dettagli. È tornato subito in libertà due notti in carcere dopo aver terrorizzato via Altinate e adesso è salita Rick, 39 anni, marocchino, con il permesso di soggiorno scaduto quattro anni fa senza fissa dimora, torna alla sua vita. Il PM aveva chiesto la misura di custodia cautelare in carcere, ma non è stata concessa perché i reati che gli vengono contestati non supererebbero i tre anni di pena. Gli sono stati contestati i reati di lesioni personali aggravate da futili motivi. Lui si è avvalso della facoltà di non rispondere e il tribunale ha comunque deciso che il marocchino dovrà presentarsi ogni giorno ai carabinieri di Saunara e andrà a processo il 19 aprile. Tariq, dopo aver malmenato sabato un sessantenne che era intervenuto per difendere una signora aggredita dallo stesso marocchino, è di nuovo libero senza nemmeno un provvedimento di espulsione. Siamo sempre a Padova dove ieri oltre 300 persone hanno preso parte nel pomeriggio in Piazza dei Signori a Padova al presidio antifascista e antirazzista organizzato dai circoli di Ampi, Arci, Asu, CGL e dai comitati studenteschi per condannare i fatti di macerata. In piazza anche rappresentanti del comune e dei partiti, molte le famiglie. L'appello alla cittadinanza rilanciato dagli interventi svolti dalla scalinata della loggia del Consiglio è stato quello a non cedere alle provocazioni delle frange più violente, dando vita invece a una società democratica e inclusiva. E vi riferiamo adesso di un grave incidente avvenuto nel Veronese, nei dintorni di San Bonifacio. Una delle vittime aveva solo 14 anni e nell'incidente ha perso la vita. Andiamo a sentire. Un altro dramma si è consumato sulle strade veronesi nella serata di domenica dove hanno perso la vita zia e nipote Luisa Piubello di 71 anni e Demma Piubello di 14, mentre la sorella di quest'ultima è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento in seguito a un incidente avvenuto tra Belfiore e San Bonifacio. La 71enne di Veronella era alla guida di una Mitsubishi Paiero con a bordo le due ragazze di San Bonifacio ma mentre viaggiava su via Linale è entrata in contatto con un'altra vettura. Sulle cause che hanno portato alla tragedia stanno lavorando i carabinieri della compagnia di San Bonifacio ma secondo le prime informazioni una Ford Focus con a bordo due ventenni avrebbe svoltato per entrare in una proprietà privata e da lì sarebbe avvenuto il contatto. Un incidente non particolarmente violento che però è bastato per far perdere il controllo del mezzo alla 71enne la quale si è ribaltata nel fossato con circa 20 centimetri d'acqua andando anche a sbattere contro un piccolo ponte che sostiene l'entrata di un campo. L'impatto è stato violentissimo, l'auto è andata distrutta e per due delle occupanti non c'è stato scampo mentre la terza era ancora in vita quando il personale del 118 e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto. I pompieri allora si sono messi al lavoro per estrarle le donne dalle lamiere e la sopravvissuta è stata affidata agli infermieri che dopo averla rianimata l'hanno trasportata al polo Confortini in condizioni critiche. Illese invece le due persone che si trovavano a bordo dell'altra auto. Due donne sono state denunciate per altrettanti episodi di furto in appartamento dai carabinieri di Carmignano dopo una serie di controlli che hanno permesso di recuperare la refurtiva. Le indagini nei confronti della 48enne rumena residente a Carmignano di Brenta e di una 35enne moldava residente invece a San Pietro in Gu sono iniziate a novembre con verifiche periodiche nei negozi comproro della zona per verificare eventuali compravendite illegali di gioielli e altro materiale. Né le anziane né i loro familiari si sono subito resi conto dei furti subiti che sono invece stati smascherati dai carabinieri grazie ai molti controlli nell'esercizio commerciale. La refurtiva è stata recuperata e riconosciuta dai legittimi proprietari che hanno formalizzato la denuncia. Il valore compressivo dei gioielli sottratti ammonta a 12.000 euro. E adesso ci spostiamo invece a Mestrino dove un centro estetico cinese che nascondeva all'interno una sala a luci rosse e questo è l'ennesimo caso scoperto dai carabinieri che hanno chiuso l'attività. Andiamo a sentire. I carabinieri di Padova hanno chiuso a Mestrino un centro massaggi che all'interno nascondeva una florida attività di prostituzione. Il business ormai è cosa nota, questo di via Paolo da Sarmeola, è l'ultimo di una serie di casi analoghi. Indagati per sfruttamento della prostituzione, due cinesi, una donna di 39 anni e un uomo di 55 avevano preso in affitto lo stabile e ci avevano creato all'interno il classico centro massaggi con trattamenti viso e corpo. La realtà era però ben diversa perché all'interno si prostituivano alcune connazionali. L'indagine è stata fatta alla vecchia maniera. I militari, una volta ricevuta la segnalazione, si sono posizionati all'esterno e hanno fermato i clienti uno a uno ottenendo così le testimonianze di ciò che accadeva all'interno. Hanno raccolto elementi sufficienti fino alla blitz decisivo nel corso del quale hanno trovato anche le ragazze che venivano sfruttate all'interno. Per quel che riguarda il centro massaggi è scattato il sequestro così per tutto ciò che c'era all'interno i due cinesi ora dovranno affrontare il processo. Uno smartwatch dotato di un algoritmo attraverso il quale monitorare tutti i processi aziendali in atto e tradurli in percentuali di performance. è l'invenzione questa che sarà presentata al mercato da Modi Nuovi, una società di San Martino di Lupari riferibile a Roberto Comarin. Il dispositivo da polso in sintesi denominato Leader Watch è in grado di seguire in tempo reale proiettando quindi i dati su una scala plurigiornaliera o mensile, dati come entrate e uscite, redditività delle ore lavoro dei dipendenti, costi di produzione e tanto altro. Di fatto, spiega Comarin, l'imprenditore dovrà solo guardare i numeri scorrere senza pensare ad altro. E chiudiamo il TG con un servizio sul Carnevale di Venezia che ieri ha toccato l'apice dell'edizione 2018. Il Carnevale di Venezia tocca l'apice dell'edizione 2018 con una domenica da pienone che ha visto arrivare in città non meno di 80.000 persone. Un dato ancora più alto di sabato quando il conteggio era arrivato a 60-70.000 per arrivare al cuore di San Marco dove invece gli ingressi sono a numero chiuso non più di 20.000 contemporaneamente. La folla di maschere ha dovuto come sempre armarsi di pazienza. Un messaggio internazionale di pace e amore sulle notte della canzone dei Beatles All You Need Is Love è stata questa la sorpresa che l'Aquila del Carnevale di Venezia 2018 ha regalato domenica mattina alle 11 in punto al pubblico di Piazza San Marco interprete della spettacolare discesa dal campanile di San Marco Renzo Rosso il patron della diesel vestito di nero dalla testa ai piedi con una giacca in pelle su cui erano ricamate delle ali bianche. Uno sguardo al meteo una saccatura d'aria fredda dal nord Europa interesserà l'Italia per poi allontanarsi nella giornata di martedì lasciando spazio a una vasta area anticiclonica. Fino alle prime ore di domani persisterà la nuvolosità associata a qualche residuo a precipitazione seguirà a tempo più stabile e soleggiato nei giorni successivi. È tutto per oggi vi ringrazio per la vostra attenzione all'appuntamento con il telegiornale di Telecittà e per domani alla stessa ora. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS di QTSS di QTSS